bene questo è oggi quello che c'è al borderline rubato tutto ci hanno praticamente ucciso ci mancava tra il il covid pandemia guerre ci mancava solo il furto e ora siamo proprio nella merda continuiamo il nostro viaggio nella devastazione del locale finito tutto attrezzature mixer l'alcol tutto quello che serve per lavorare serenamente manca tutto vi farò vedere anche sopra sulla devastazione che c'è anche sul soppalco non abbiamo più niente pozzetti tutto siamo definitivamente uccisi non c'è più nulla scusate vediamo se riesco a mettere un po di luce ufficialmente siamo ufficialmente morti sapevano dove mettere le mani hanno rubato solo solo quello che c'era da rubare tranne le cose grosse va bene ora vediamo come risollevarsi per l'ennesimo ringrazio tanto al quartiere il quartiere proprio li ringrazio tantissimo arriviamo questa intera piena per com'era ce la stavano portando con la mia bravetta grazie a dirvi congetterò anche all'instituto 11 o fa non c'è niente